Sostanzialmente si è elaborata una strategia che tenderà nel periodo di vigenza fino al 2022 a rendere l'Abruzzo autosufficiente dal punto di vista gestionale. È un termine che solo dieci anni fa poteva davvero rappresentare una chimera, oggi invece è realtà. Il piano dimostra come inoltre in realtà riusciamo a sventare questa ipotesi di insediare un impianto di incendimento in Abruzzo perché i dati dimostrano come ciò non sia conveniente dal punto di vista economico oltre che sostenibile dal punto di vista ambientale. Inoltre sono state evidenziate oggi tutta una serie di attività che si riassumono in 590 progetti in corso di attuazione da parte del servizio di gestione dei rifiuti, una mole di investimenti di circa 155 milioni di euro. ripeto sono tutti interventi in corso che magari uno riesce a vedere con un po' di difficoltà ma che dati alla mano, saranno pubblicati da oggi poi, credo che possano davvero rappresentare non solo una prima attuazione nel piano ma anche una risposta concreta a chi vuole perseguire come noi l'economia circolare. Questo è l'effetto più immediato, usciamo fuori dalla ulteriore procedura di inflazione per cui eravamo stati sanzionati, sarebbe stata la settima perché ne abbiamo già tre sul tema dei rifiuti e tre sul tema degli inquinamenti idrici e sventiamo questa eventualità sicuramente dannosa e perniciosa per il nostro Abruzzo e inoltre gli effetti di questo piano si espricheranno anche su talune iniziative progettuali presentate o semplicemente addombrate che cozzano con i dettami del piano e uno di questi è l'ampliamento delle scariche Santoluce e di altri.